Il gioiello da oltre 30 anni si distingue per l'estrema cura nella selezione dell'offerta dei più prestigiosi marchi internazionali, garantendo un'elevata qualità del servizio e scelta dei preziosi. La cultura del prezioso costituisce il fulcro della filosofia aziendale, che si riverbera nell'abilità di trasmettere i valori della gioielleria ed orologeria ad una clientela vasta ed esigente, in un connubio di passione, maestria e perizia tecnica. L'ampia scelta presente in entrambi i punti vendita, la cortesia e la disponibilità offerta, consentono di esaudire sempre le richieste di ogni cliente. Avvalendosi di un laboratorio orafo e preparazione di alto livello nell'analisi e nella classificazione delle pietre preziose, aggiornamento costante con corsi specializzanti, il gioiello fornisce tutte le qualifiche necessarie alla vendita e all'assistenza continua. Dal 2017, il gioiello è anche presente nel Consiglio di Amministrazione di Feder Preziosi Salerno.